Il colpo di scena nelle elezioni amministrative arriva da Sulmona e da un post social del candidato sindaco Andrea Gerosolimo. In una lettera aperta infatti annuncia di voler rinunciare all'ultima settimana di campagna elettorale, di fatto ritirandosi dalla competizione. Gerosolimo era capo di una coalizione civica che al primo turno aveva guadagnato l'accesso al ballottaggio con 4.598 voti, il 34,32% delle preferenze degli elettori che in prima istanza hanno preferito però la coalizione di centrosinistra guidata da Gianfranco Di Piero, in testa con 5.308 voti, il 39,62%. Una scelta che se si guarda solo ai numeri apparrebbe incomprensibile perché la partita del secondo turno sarebbe tutt'altro che chiusa, ma, leggendo lo scritto di Gerosolimo, si comprende cosa abbia spinto l'ex assessore regionale della Giunta d'Alfonso a defilarsi. Gerosolimo parla di sconfitta personale per aver preso 800 voti in meno delle liste a suo sostegno, ma soprattutto punta il dito contro il clima negativo creato in città nei suoi confronti. Un venticello calugnoso lo definisce Gerosolimo. «Sono stato sottoposto ad un linciaggio mediatico senza precedenti», scrive, «un linciaggio umano che non augura a nessuno». Gerosolimo, poi, dice di essere in possesso di materiale diffamatorio che sarà oggetto dell'attenzione degli organi competenti, perché al di là dei binari della critica politica. Nel post, infine, non si risparmiano stoccate né al centrodestra né al centrosinistra. L'ormai ex candidato sindaco, infatti, parla di un accordo diagonale tra i due poli, non per governare la città, ma per abbatterlo. Dopo aver ringraziato i suoi 112 candidati, Gerosolimo conclude annunciando che il suo gruppo farà un'opposizione attenta e rigorosa, rispettando il principio di pacificazione più volte espresso durante la campagna elettorale. «Continueremo il nostro percorso attraverso lo strumento della partecipazione civica, che abbiamo ritenuto il miglior modo di dare rappresentanza alle nostre comunità», si legge nel post. Sul Mona ha deciso di farsi rappresentare dai partiti, chiosa Gerosolimo, ma siamo certi che il tempo ci darà ragione.